Luigi Berlinguer, ex ministro dell'istruzione e della ricerca, cugino di Enrico Berlinguer, è morto all'età di 91 anni. È stato un uomo politico e accademico di grande valore, che ha dedicato la sua vita alla scuola, alla ricerca e all'integrazione europea. Nato a Sassari nel 1932, ha iniziato la sua carriera politica nel Partito Comunista Italiano, PCI e ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui consigliere comunale, sindaco, deputato e senatore. Nel 1985 è stato nominato rettore dell'Università di Siena, carica che ha ricoperto fino al 1993. In questo periodo ha promosso numerose riforme nel sistema universitario. Nel 1993 è stato nominato ministro dell'Università e della ricerca scientifica nel governo Ciampi. Successivamente, nel 1996, è stato nominato ministro dell'istruzione e della ricerca nel primo governo Prodi. Ha ricoperto questo ruolo fino al 2000, ricoprendo anche la carica di ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica dal 1996 al 1998. Berlinguer è stato un grande sostenitore della scuola pubblica e della ricerca scientifica. Ha promosso numerose riforme in questi settori, tra cui la riforma della scuola elementare e media, la riforma del sistema universitario e la creazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. È stato anche un convinto europeista e ha contribuito a promuovere l'integrazione europea. Uomo di grande cultura e intelligenza, di grande passione e impegno e di grande generosità e disponibilità. La sua morte è, e sarà, una grande perdita per l'Italia. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.